Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diritto al dissenso e libertà di movimento riguardano due diritti assolutamente inviolabili o quelli che noi ritenevamo diritti inviolabili. Il terzo elemento invece pone una domanda secondo me, azione giudiziaria, perché mi verrebbe da domandarmi quali sono i limiti di un'azione giudiziaria di fronte a questi diritti inviolabili. Domanda che ha un'altra faccia. Esistono, e se sì, quali sono i limiti a questi diritti? Cioè, oltre quale limite si può pensare a un'azione giudiziaria? Perché questi sono diritti che hanno veramente delle radici profonde. Sono sostenuti, protetti da delle norme fondamentali, nazionali, internazionali, che garantiscono la libertà di espressione del pensiero e quindi la libertà di associazione e di esprimerlo anche come associazione. La norme è che andiamo indietro fino alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con l'articolo 13 e poi l'articolo 16 della Costituzione che garantisce la libertà di movimento e di circolazione. Accenno, perché so che ne parlerà anche poi il Palombarini, proprio su quest'ultimo diritto, quello della circolazione, che viene compresso con questo foglio di via. Io mi ricordo che quando ho iniziato la mia professione mi capitava di difendere in pretura qualche prostituta che aveva violato il foglio di via e qualche rarissimo all'epoca extracomunitario, ma erano soprattutto le prostitute. A volte c'erano delle condanne, a volte delle assoluzioni. Nei confronti di queste persone, appunto, le prostitute che in qualche modo, come dire, disturbavano l'immagine di una città pulita, visitata da migliaia di pellegrini che andavano al santo, e quindi foglio di via, e quindi violazione del foglio di via, eccetera. E adesso la Cassazione, l'ultima sentenza è di un mese fa circa, dice che non si può dare il foglio di via alle prostitute, perché non rientrano in quella categoria, che è quella dell'articolo 2, dei soggetti pericolosi. E tra l'altro, dice a certo punto la Cassazione, perché dice che l'offesa, la messa in pericolo di questi beni, per essere rilevanti, deve discendere da veri e propri reati ascrivibili al soggetto, e non da condotte che in sé non costituiscono reati. Allora mi domando come si possa conciliare con questo pensiero la circostanza di non dare esami, perché ho letto uno di questi fogli di via, cioè una persona che sta qua come studente, che non dà esami, che partecipa a delle manifestazioni, è a questo punto il foglio di via. E questo mi ha molto impressionato, perché francamente, certo, noi abbiamo vissuto dei momenti di forte repressione in questa città, con un vecchio codice che dava alle procure dei poteri enormi in materia di libertà personale. Ricordavo prima che ieri erano 35 anni, dall'11 marzo dell'80, con arresti, eccetera. Eppure, io, questo strumento di, come dire, di repressione del puro e semplice dissenso, non l'ho mai visto, neanche in quei momenti pesantissimi. Strumento di polizia, però a questo punto c'è anche da domandarsi fino a che punto, con il più o meno tacito consenso di una magistratura, che comunque quel dissenso vuole reprimere, e laddove non arriva la norma penale, arriva lo strumento di polizia. E qui abbiamo proprio un diritto inviolabile, che è quello della libertà di manifestare il proprio pensiero, in tutte le forme di associazione, di manifestazione, eccetera, che viene represso violando un altro diritto, che è quello della libera circolazione, cioè si reprime un diritto violando un altro diritto. C'è praticamente un contenimento del dissenso attraverso l'esclusione, l'allontanamento dalla scena pubblica, dalla città, dal luogo, l'esilio. E questo è un dato preoccupante. L'altro dato che in tutte queste vicende mi ha molto colpito, è la questione della contestazione del reato di devastazione. Io ricordo, Aurora, si ricorderà quando ci mettiamo a studiare la questione per il processo del G8 a Genova, un reato molto grave, molto pesante, e credo che per noi era la prima volta che ci trovavamo a fare i conti con quel reato. Però a Torino hanno alzato il tiro, perché a quel punto hanno devastazione con la finalità del terrorismo, quindi di una gravità estrema, anche proprio sotto il profilo della sanzione, bloccati dalla Cassazione, e poi c'è stata la sentenza che tutti conoscevano. E forse è proprio questo, era un'accusa talmente squilibrata, talmente eccessiva, che non poteva che essere cestinata, anche da una magistratura moderata, ma era il troppo. Io non credo che siamo salvi da quel rischio, perché proprio questo alzare il tiro nelle contestazioni, questo alzare il tiro nel penalizzare comportamenti che rientrano in quello che è, che sono dei limiti di dissenso, ci apre la porta a un'escalation proprio sotto il profilo della penalizzazione di tanti comportamenti, di tante manifestazioni del pensiero del dissenso. E quindi nel momento in cui si alza il tiro, nel momento in cui c'è l'escalation, questo reato, non voglio essere una pessima e brutta Cassandra, però io temo che non sarà così inusuale trovarcelo in capi di imputazione, laddove sarebbe sufficiente un danneggiamento. Ma io temo che questo alzare il tiro non sia un discorso casuale, non sia un'iniziativa di una singola procura, perché tante volte abbiamo visto che certe iniziative di una procura in realtà dietro avevano un disegno molto più ampio, un filo conduttore e poi lo ritrovavamo in altri processi, in altri sedi, in altre procure. Quindi quando c'è questa volontà di chiudere, e guardate, io dico chiudere perché secondo me chiudere è ancora più pesante che reprimere, perché il reprimere è una spinta che può comportare una controspinta uguale e contraria, ma chiudere è un qualche cosa che può non avere via d'uscita. Quindi questo è molto difficile, perché quando vengono contestati i reati di tale gravità, oltre alle conseguenze che ne possono derivare sotto il profilo poi delle sanzioni, della galera, eccetera, c'è veramente una intimidazione, un incutere, una paura, perché c'è chi può domandarsi ma il gioco vale la candela, ma sul serio, soprattutto nella massa, perché le motivazioni possono essere tante. Aurora prima parlava del discorso del concorso, io però non sono tanto d'accordo sul fatto che oggi ci sia stata un'inversione di tendenza. Io credo che in realtà c'è sempre stata un'applicazione oscillante e al di là di alcune applicazioni corrette su questa norma, nel senso che era la necessità che ci fosse una partecipazione diretta, concreta nella commissione di un determinato reato, partecipazione noi abbiamo ancora nel nostro sistema, anche se aspettiamo sempre questi famosi progetti di riforma del codice che dovrebbe togliere il concorso morale, però abbiamo ancora questo malefico concorso morale, quindi non è solo chi materialmente agisce, ma anche chi in qualche modo concorre. Però abbiamo dei casi che purtroppo sono sempre stati negli anni delle eccezioni per quanto ci riguarda nei processi che abbiamo seguito, delle eccezioni, i casi in cui c'è stata un'applicazione rigorosa in cui effettivamente veniva analizzato il comportamento di quel soggetto e in che modalità poteva avere concorso. Molto spesso abbiamo visto delle applicazioni indiscriminate, appiattite nel momento in cui sei nella piazza, tu comunque rafforzi la volontà di quello che in quel momento sta tirando il sasso, anche se non l'hai tirato, ma tu eri lì e gli hai dato forza, gli hai dato la consapevolezza che tu c'eri, che quindi lo proteggevi psicologicamente. Queste non sono parole mie, sono parole di sentenze che purtroppo abbiamo visto. Quindi temo che anche questo non sia un qualche cosa... Cioè, riemerge, questi orientamenti purtroppo riemergono in determinati momenti. Quali momenti? Prima, forse tu, o Giada, non mi ricordo, ha detto qual è lo stato della democrazia. Allora, ricordo di aver letto, che poi era una sentenza della Corte Suprema tedesca, tra l'altro, a proposito di reati contro l'ordine pubblico, a proposito appunto del discorso sulla limitazione alla libertà di espressione e manifestazione, e diceva una cosa che mi aveva molto colpito, a volte ho tentato di dirla nei processi, non sempre mi hanno guardato all'occhio tondo, e diceva che una democrazia deve essere in grado di poter tollerare un grado di illegalità. Ed è, secondo me, un'affermazione importantissima, perché la vera democrazia è tale per cui può anche far sì e accettare nel proprio interno, nella propria compagine, chi commette atti illegali nel momento in cui manifesta, in cui si associa, in cui dimostra il proprio dissenso. E come deve esserci una permeabilità su questo, altrimenti non è democrazia? Allora, qual è lo stato della democrazia? Io credo che nei momenti di grave crisi, come è quello che noi stiamo attraversando, non dico crisi di cosa perché su questo potremmo aprire un altro convegno, un altro capitolo enorme. Però nei momenti di grave crisi il dissenso è pericoloso. Fa paura. Come fanno paura? La povertà, la diversità. E allora bisogna nasconderle, bisogna chiuderle, bisogna esiliarle, appunto, vedi, foglio di via. E, scusate, c'è, voglio accennare una cosa, che anche se può sembrare al di fuori di questo titolo, ma siccome è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché io da anni mi sto occupando del carcere, e quello è un termometro, è un termometro pazzesco della situazione della nostra democrazia. E non solo per la famosa frase di Voltaire che forse i nostri politici dovrebbero ricordare, non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché il grado di civiltà di un Paese si misura sulle condizioni del carcere. Ma perché i carceri sono sempre più pieni delle persone più povere? Penso, appunto, povere, e molti di quelli lì non dovrebbero esserci. E c'è un dato che, e qui torniamo al discorso delle misure, voi ricorderete che poco più di due anni fa c'è stata la famosa sentenza Torreggiani che ha condannato l'Italia per le condizioni inumali, degradanti, torture nelle carcere. In questi due anni c'è stato un tutto, un proliferare di leggi, di norme, eccetera, per correre i pari e far sì che l'Italia riuscisse a superare in qualche modo la condanna. Quanto meno continuando a prorogare, perché questa la devo dire. Sentenza del gennaio 2013 viene data all'Italia un anno. Il Governo fa uno di quei ricorsi inammissibili che quando lo facciamo noi avvocati ci dicono queste manovre. E l'ha fatto il Governo, ha fatto un ricorso che era inammissibile, dichiarato appunto inammissibile, però ha lucrato qualche mese, siamo arrivati a maggio. A quel punto l'anno scadeva a maggio 2014. Ha fatto qualche intervento normativo ed è riuscito ad arrivare ancora qualche mese. Adesso doveva scadere? Adesso, a giugno 2015? No, c'è già notizia che il Comitato di Ministri deciderà a dicembre 2015. Perché non siamo ancora in regola. Allora, tutte queste norme che hanno tentato di fare, che vorrebbero il carcere come estrema razio, però guardate un po'. Queste norme non si applicano ai più disgraziati. Perché ad esempio la questione degli arresti domiciliari, che dovrebbe essere comunque la misura da applicare in luogo del carcere, per tutti i poveracci che non hanno un domicilio sicuro, che non hanno un domicilio, come si dice, idoneo. Poi chi lo stabilisce, l'idoneità, è tutto da verificare. Abitava fino all'altro ieri in quel posto, però diventa inidoneo nel momento in cui si tratta di fare, di applicare una misura. Ebbene, tutti questi restano in galera. E con un, tra l'altro, atteggiamento da parte delle forze dell'ordine, nei confronti di quei magistrati che invece, non dico coraggiosamente, perché non è coraggio, è semplicemente un applicare la legge, ho assistito io alla situazione di due ragazzine, due zingare, che erano un processo per direttissima, e il giudice gli applica l'obbligo di dimora. E gli fa la romanzina, erano giovani queste ragazzine, e gli fa la romanzina e gli dice, guardate che però se hai violato io posso gravare la misura e posso quindi farvi andare in carcere, quindi mi raccomando, dovete stare. Cioè, gli ha fatto un po' una romanzina spiegando quello che era la misura e cosa devono fare. Io ero seduto un po' più indietro, aspettavo il mio processo, ero un po' più indietro, e avevo a spalla i due poliziotti che le avevano arrestate. Voi non avete idea degli insulti che hanno pronunciato nei confronti di quel magistrato, che era una donna, quindi faccio l'oggetto di insulti, ovviamente. Cosa non hanno detto? Perché non aveva messa in galera. Ecco, allora, parliamo dell'applicazione di misure, allora io è per questo che sento la necessità veramente di un confronto, di parlare, perché non è solo un fatto di repressione, è un fatto di cultura, è un fatto, è un qualche cosa che va oltre, che dobbiamo tutti pensare a questo discorso di una democrazia che tolleri l'illegalità. grazie. 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 Grazie.